Capos, take the floor please. Facciamo un bel applauso per la semifinale della Junior 2. Vediamo se il pubblico riesce a fare ancora di più. Un bel applauso, ci prepariamo per la serata. Nato ai porti di Piazzeria, dove tranno bambanti, dove l'aria è popolare, è più facile subiare che guardare faccia. La realtà. Quanta gente giova a te, va via a te, a cercare più di quei occhiali. Forse perché i occhi presi, a nessuno li ha inarresi, e dentro fanno mancordini. E in un paradiso che nella vita è solo una rigidità. Grazie mille, Capos. La prossima competizione sarà per la Junior Institute Stangal. E la seconda per te è Stangal. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.